Sono accusati di essere le nuove leve del mandamento mafioso di Corleone arrestato un anno fa dai carabinieri di Monreale. Tre in totale gli assolti, si tratta di Vincenzo Pellitteri, Francesco Geraci, classe 66 e Francesco Geraci, classe 71. Dei dodici arrestati nel blitz Grande Passo 4, nove hanno scelto il rete abbreviato. Tra i condannati è anche Carmelo Gariffo, 14 anni, nipote prediletto di Bernardo Provenzano e che, secondo l'accusa, aveva provato a ricostruire il mandamento di Corleone con altri 11 fedelissimi ma non aveva fatto i conti con una denuncia del racket da parte di alcuni impresari edili. Condanne anche per Bernardo Saporito, 8 anni e 8 mesi, Antonino Di Marco, 6 anni, Leo Luca Lubue, 10 anni, Pietro Paolo Masaracchia, 9 anni e 8 mesi, Vito Filippello, 8 anni. Rispondevano a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata e danneggiamento. Pietro Vaccaro, Vincenzo Coscino e Francesco Paolo Sciagni hanno scelto il rito ordinario e il processo si svolge davanti ai giudici di Termini Merese. I carabinieri del gruppo di Monreale arrestarono i nuovi boss a fine settembre 2016. Nel processo in abbreviato erano parte civile il Centro Piola Torre, avvocato Francesco Cutraro, i comuni di Corleone e Palazzadriano, avvocato Ettore Barcellona, il comune di Chiusa Sclafani, avvocato Salvino Caputo, Addio Pizzo, avvocato Salvatore Caradonna, Sicili Industria, avvocato Vincenzo Lorre e Confcommercio, avvocato Fabio Lanfranca.